ehi la ragazzi ciao da nick e bentornati qua su gta 5 moddato oggi torniamo nelle strade di los santos come protettore della legge ma non come poliziotto bensì come carabiniere si ragazzi esattamente carabiniere eccoci qua qui abbiamo anche l'altra versione del carabiniere ma io vorrei questa a posto poi partner facciamo 6 allora tutti carabinieri o mi raccomando poi tutti uguali sei carabinieri e basta allora mi vado a piare ragazzi giubbotto antiproiettile oggi il capo ci ha detto che praticamente c'è parecchio movimento tra nelle zone delle gang pare sia successo qualche cosa in quelle in quella zona forse bu qualche problema di droga praticamente c'è qualcosa che non va allora guardate quanti carabinieri ragazzi ho anche aggiunto la macchina dei carabinieri che però non andiamo ad usare perché praticamente non ha la sirena però ve la faccio vedere ma non la usiamo perché non ha la sirena però è bellissima vero piano va bene ne abbiamo già perso uno siamo ancora in cinque notte a posto no sta tornando l'altro allora vediamo un po se riesco a pigliare un veicolo dove ci possiamo stare tutti possibilmente sicuramente solo in questo forse ci stiamo tutti non lo so da io abbiamo da fare non potete entrare tutti davanti o valore siete carabiniere veramente guarda si ammazzano tra di loro basta non c'è senso gli altri che faccio e lascio fuori oddio ok vediamo se trovo un altro veicolo cosa posso fare ok qualcuno mi ha chiesto di provare l'elicottero oddio perché l'elicottero ha la scritta ambulanza non ci stiamo tutti mi sa eh vabbè andate a quel paese va vi lasciamo qua che importa va tanto alla fine ok allora mi avete detto di usare un pochettino l'elicottero anche se non so perché è marchiato ambulanza ci dirigiamo nelle zone delle gang che ci hanno detto insomma c'è parecchio come al movimento se riesco a posarlo a terra è un miracolo boh 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 che cosa stop the car now scendi con le mani in alto che mi sbagliò ociociociocio aveva la ragione tieni le mani in bene in vista tieni le mani in alto tieni le mani in alto sei in arresto amico continuiamo il pattugliamento nelle strade di los santos pareggia avete visto che c'è parecchio movimento oddio ci sparano richiedo assistenza tieni le mani bene in vista butta l'arma oddio quanti cacchio sono? holy shit come sparano mannaggia qua richiedo altro che assistenza richiedo assistenza immediata porca miseria ecco finalmente arrivano i rinforzi oh shit quanti cacchio sono? richiedo assistenza meno male sono arrivati sono arrivati rinforzi lo sta all'altro eccolo l'ho visto adesso mannaggia ho perso tutti i miei uomini sotto copertura sotto copertura mannaggia cavolo cavolo mi sparano mannaggia ho perso tutti i miei uomini mannaggia ho perso tutti i miei uomini o forse uno è vivo ops cavolo sta macchina non è più buona per niente cavolo ancora spara no andiamo a pigliare l'altro dov'è? c'è fino affatto se fai una mossa sei morto ma già mi pare morto ok ho perso i miei uomini ragazzi li ho persi tutti ok mi sa che devo richiedere qualche nuovo partner andiamo? colleghi andiamo ok ragazzi si è fatta intanto giorno la situazione tutta la notte è sembrata abbastanza tranquilla vediamo un po' direi che possiamo fare dei controlli che succede? qui succede qualcosa qui succede qualche cosa fermo pulizia anzi carabinieri mani in alto tieni le mani ben in vista tieni le mani ben in vista tu tieni le mani ben in vista sei in arresto amico sei in arresto tieni le mani ben oh ho detto tieni le mani ben in vista e che è duro di testa vediamo l'altro intanto l'altro scappava è stato ucciso dai miei colleghi non era armato ma comunque tu tu scappi fermo polizia carabinieri scusa mi sbaglio mi è tanto tieni le mani ben in vista sei in arresto niente motivo non lo so mi piaceva restare scappavi eri sospetto cos'è che mi hai detto? fermati scendi dal veicolo hai detto una cosa che non dovevi dire un carabiniere sei in arresto senti non fare il genio della lampada gingato a chi gingato a chi sei in arresto sei in arresto a quel paese ti ho detto che sei in arresto andiamo andiamo che eh signora signora si fermi signora ma no non ti botto però mi ho detto si fermi signora mi è piantata una frenata che gli arriva addosso è pure morta poverina ehi mi pare che sto tipo guida un po' strano eh ehi 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 fermati allora motivo per cui l'abbiamo fermato guidava strano ah dice che era tardi e stava correndo non me ne frega niente fammi vedere la patente allora Lauren Lauren Wright 27 anni licenza numero bla 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 facciamogli un controllo se è armato abbiamo trovato una pistola signorina tenga le mani ben in vista la dichiaro in arresto vabbè che in America sono tutte armati e le faccio anche una multa di 50 dollari grazie e arrivederci a posto a posto mi piace oh sto sportello qui che è che l'ha aperto a posto ми ehi 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 abbiamo una chiamata il tipo non si ferma fermati qui la polizia tiene le mani in vista troppo tardi sono stato costretto a far fuoco e lo so che è è morta è morta sequestrano la pistola guarda quanto sangue che schifo andiamo 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 e hai causato un incidente vieni qua fermati immediatamente ho detto che ti devi fermare fermati immediatamente non si vuole fermare mi costringe a sparare ho detto che ti devi fermare fermati immediatamente scendi immediatamente con le mani in alto metti le mani bene in vista ma nonna poi mi sono incastrato sei in arresto amico hai capito che sei in arresto ok è in arresto stanno sparando abbiamo degli agenti in pericolo andiamo 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 agenti in pericolo agenti in pericolo agente in pericolo arriva nick a proteggerli in edge agente nick è in arrivo ci siamo mettete le mani bene in vista ma in alto ma mannaggia sto sciamo che mi ha messo sotto non ho fatto niente vabbè dai ho messo sotto 4 db c'è un po di fumo qua sotto ma era un momento tutto tranquillo io c'ho oddio richiede immediatamente assistenza immediatamente ho richiesto assistenza ragazzi qui guardate quanti sono mettete le mani bene in vista rendetevi qui sono i carabinieri di carabinieri di los santos che miseria sono troppi che armi c'ho usci la bomba oh arrivano sti rinforzi oh eccoli là arrivano i rinforzi arrivano i rinforzi minnaggia quanti cacchio so abbiamo una gente a terra no tutto a posto ok oh grazie ragazzi grazie per essere siete arrivati in tempo mi sa che eravamo altrimenti spacciati erano veramente tanti oh uh meno male che sono arrivati i rinforzi raga wow abbiamo anche il veicolo danneggiato una ruota sgonfia già arrivano altri rinforzi pare vediamo chiamiamo se arrivano eh ambulanza e quant'altro oh mamma oh è arrivata l'ambulanza alla fine eccola la ecco i paramedici ok va bene ce ne possiamo andare ragazzi attenzione sparatori in corso richiedo assistenza richiedo assistenza immediata mettiti giù mettete le mani ben in vista ok siamo tutti salvi presto andiamo dobbiamo vedere cosa è successo qua chi è metti le mani ben in vista oh cavolo qui ci sparano in tanti oh metti le mani in alto chiede le mani ben in vista no sono morto alla fine vabbè erano veramente tanti adesso eh va bene ragazzi dai spero quindi che questo gameplay vi sia piaciuto commentate ovviamente ecco che devo dire oh mi raccomando ragazzi i mi piace se vi va di lasciarli lasciateli mi farebbe tanto piacere commentate mi fa anche quello tanto piacere che dovevo dire più iscrivetevi se non siete già iscritti mi raccomando fatemi sapere ci becchiamo presto in un prossimo video mochiamo all'estero che scommettiamo 3 2 1 che ti ho detto andate al paese le sto a rompere quindi vi saluto ragazzi alla prossima